Balassone in audizione alla Camera sulla Manovra, il capo del servizio struttura economica, vado per sommi capi, reddito di cittadinanza dice avremmo avuto un milione di poveri in più, però l'attuale assetto ha delle criticità soprattutto come misura di accompagnamento al lavoro. Sulla flat tax incrementale non elimina rischi e delusione di evasione, ed evasione per quanto riguarda invece il pagamento in contante rischioso, alzare il livello del pagamento in contante anche sul post, dice, consente il tracciamento e dunque tecnicamente aiuta a contenere quello che è insomma in qualche modo il sommerso. Voglio sentire prima Borghi e poi vado da Gianrusso. Ma Banca d'Italia dovrebbe mettersi d'accordo con la Banca Centrale Europea di cui è parte insomma perché Banca d'Italia parte dell'eurosistema. La Banca Centrale Europea ha interpellata direttamente sulla questione del contante, ha ribadito molte volte che l'unico mezzo di pagamento legale nell'Unione Europea è l'euro emesso dalla Banca Centrale Europea e che qualsiasi tipo di compressione a suo utilizzo deve essere valutata con estrema attenzione perché rischia di diventare illegale. Quindi non so, mi risulta un po' curioso vedere che da Banca d'Italia arrivi un input molto differente rispetto a quello della Banca Centrale Europea, ripeto, di cui è parte. Oggi di fare la polemica con Borghi non mi va assolutamente, poi se la vogliamo fare la facciamo per carità. A me va di ragionare su misure che possono avere un senso se hanno dei limiti, se no diventano controproducenti. E allora sentiamo ancora il senatore Borghi. No, ma in teoria diciamo la stessa cosa, vale a dire se la camorra o la mafia pagano in contanti normalmente, è evidente che non sono toccati da nessun tipo di limite che viene messo. I limiti vengono messi per le persone oneste e ci sono delle persone oneste che si trovano tagliate fuori dal mercato perché magari qualcuno che per qualsiasi tipo di motivo ha voglia di comprare qualcosa in contanti, lo fa in Svizzera o lo fa in Austria. Io mi occupo, per esempio, mi interessa molto il mercato dell'arte, è una mia passione che ho da tanti anni. Beh, ci sono tante case d'asta che presentano i loro quadri qua a Milano e poi li vendono a Vienna. Questi sono tutti i soldi che perdiamo gratuitamente, potrei farvi i nomi, ma tanto ve li potete tranquillamente guardare. Perché? E perché la più grande fiera d'arte contemporanea si fa a Basilea, in Svizzera? Anche perché non c'è limite al contante. Quindi noi ci automettiamo dei limiti che ovviamente alle mafie e alla criminalità non importano minimamente. Perché non importano? Perché non importano? Ma non ho capito, se tu hai lo spacciatore, se tu metti il limite al contante, lo spacciatore appunto si fa pagare la cocaina col POS. No. Col POS? Non credo. Cosa mettere la motivazione? La cocaina col POS direi che questo non si può fare o con un bonifico bancario non si può fare. Invece comprare un quadro col bonifico bancario è semplicissimo, col telefonino è semplicissimo, fai un versamento e fai il pagamento elettronico. E' bracciato se non hai niente da nascondere, no? Ma appunto, ma Gianlusso, ma il punto è sempre uno. Cioè, vale a dire, se noi aboliamo il contante tucur, no? No, l'aboliamo. Facciamo dei limiti. Ma dato che non lo aboliamo e il contante c'è, significa che se uno volesse riprendere 10.000 euro, lo può fare. Perché tanto in ogni caso, ripeto, la criminalità organizzata non si porrà nessun tipo di problema, no? Per farlo. Io credo, io credo, e Banca Italia dice invece che verrà aiutata. Tutte le volte che negli anni si è fatto scendere, no? Il tasso, il tetto del contante si diceva che avrebbe stroncato l'evasione. Poi arrivavano fuori i dati sull'evasione e erano sempre più alti. Come mai? Le autonomie, insomma, la cosiddetta autonomia differenziata. Senatore Borghi, insomma, col derby nord, sud, sappiamo quel che è successo, che è risuccesso in queste ultime settimane. Vogliamo fare una battuta anche su questo? Poi riprendiamo un po' il commento alle parole di Banca Italia. Borghi e poi tornano a Gianrusso. Beh, mi sembra che se ho interpretato bene la battuta di Occhiuto, mi sembra che virgolette venga dalla nostra. Cioè, l'autonomia è responsabilità, non è egoismo o chissà che. L'autonomia è semplicemente evitare che anche un amministratore locale possa, come troppo spesso succede a tutti i livelli, e io ho fatto sia consigliere comunale che regionale, so che questo atteggiamento è diffuso, ogni volta che c'è una protesta da parte dei cittadini, allargarle braccia e dire, ma io non ci posso far niente, è sempre colpa di qualcun altro. E poi alla fine di solito per l'Irami si arriva a stato l'Europa o similari, oppure è colpa del governo, è colpa dei parlamentari, è colpa dei politici in generale, no? È similari. L'autonomia invece serve a responsabilizzare i livelli di amministrazione. Se a parità di condizioni, nella regione X le cose vengono fatte bene, nella regione Y le cose vengono fatte male, allora i cittadini hanno di che poter votare in modo più informato. Cioè si arriva sotto soglia e sostanzialmente ci si ferma, chiaramente perché altrimenti lo traduco in maniera semplice, andrebbero a pagare molte più tasse. Invece di fare tutto questo, dice Banca Italia, occorrerebbe mirare a una riforma organica complessiva del sistema fiscale, con l'obiettivo di semplificazione appunto e accrescimento dell'equità. Voglio sentir Borghi e poi Gian Russo torno da lei. Prego. Ma premesso che l'idea della flat tax incrementale è un'idea di Fratelli d'Italia e quindi non nostra, perché secondo me, insomma noi siamo come tutti sanno per la flat tax proprio in un'ottica di semplicità di sistema. Ecco, la flat tax incrementale vale a dire tenere il sistema che è attuale e poi mettere una tassa piatta per quello che c'è oltre soglia, dal mio punto di vista aggiunge un pochettino di complessità, ma rispetto ovviamente a chi su questa idea ha preso tanti voti, più di noi, e quindi li aiuterò ovviamente a realizzare questa idea. Mi stupisce un po' l'idea di Banca d'Italia perché il fatto degli scaglioni, il fatto di dire io rimango sotto soglia, beh ma non mi pare che c'entri con la flat tax incrementale, anzi la flat tax incrementale dovrebbe essere un incentivo a dichiarare sopra soglia, proprio perché si avrà una tassazione più bassa rispetto a quella dello scaglione inferiore. Io ancora un paio di minuti e allora torno dal senatore Borg, dove hai sentito già Russo, e voglio chiudere con lei. Ma no, sull'autonomia si è già detto, sull'evasione io vorrei riportare le cose un attimo sulla terra. Il livello di incasso tasse, quindi tassa su pil dell'Italia, è clamorosamente alto, siamo ai livelli più alti del mondo, e quelle sono tasse effettivamente incassate, è. Quindi questo cosa significa? Significa che se io domani schioccando le dita abolissi tutta questa evasione che si dice che ci sia, e sicuramente da qualche parte c'è, allora il risultato che cos'è? Che il livello di tasse incassate dallo Stato renderebbe impossibile l'attività economica. Quindi cos'è l'intento e cos'è il pensiero della flat tax? Io rendo la tassa pagabile o ragionevole o competitiva rispetto a quella degli altri paesi, e dopo una volta che ho fatto questo posso essere severissimo e prendere e mandare in galera tutti quelli che poi alla fine non la pagano buttando la chiave. Perché a quel punto non ci sono più scuse. Ma dall'altra parte però mettere in certi casi tasse irragionevoli, e poi dopo essere severissimi se qualcuno per necessità non la paga, e quindi da qui la nostra iniziativa sul saldo estralcio, quindi gente che ha dichiarato ma poi alla fine non è riuscita a pagare perché alla fine la crisi ha colpito duro, purtroppo bisogna riuscire a essere equilibrati in questo mondo, perché altrimenti veramente facciamo i Torquemada con i poveracci. E poi la grande evasione, quella che va all'estero e così via, se tutti chi evade ruba a chi paga le tasse, allora se le pagassimo tutti le aliquote sarebbero più basse, sarebbe più competitiva l'Italia. Questo è l'obiettivo di tutti, non quello di massacrare chi paga. Giarrusso hai ragione, è una questione di tempistica, cioè se noi si pensa che prima tutti devono pagare le tasse anche se sono irragionevoli, in modo tale da far fallire le cose e poi da far fallire le robe, poi la abbassiamo, poi non succederà mai, ogni volta che si recupera l'evasione non succede mai. Allora abbassiamole prima.